21. È passata più di una settimana da quando ti ho spedito il mio ultimo fugace e sballottante saluto. Ebbene, il viaggio continua. Siamo sempre a bordo. In media un giorno sì e uno no attracchiamo in un misero porticciolo, o per lasciare giù un carico, o perché le mucche hanno bisogno di una giornata di tregua. Sono bestie, infatti, che possono morire per il mal di mare. E il tempo continua a essere burrascoso. Più di una volta ho già detto al capitano che sono disposta a comprarle tutte e venti e poi a sbarcarle al prossimo prodo, in modo da poter finalmente accelerare l'andatura. Sai, per me questo viaggio potrebbe anche durare in eterno, ma gli altri sono talmente impazienti. Il capitano però non ha accettato la mia offerta. Chissà se arriveremo mai da qualche parte, o se alla fine affonderemo con questa baracca. È ormai chiaro che il denaro continua a farsi beffe di me. Da quando non può più sfuggirmi, si sono create varie situazioni nelle quali non mi è più stato possibile spenderlo con volutà. O non c'era tempo, come a Genova, o è mancata l'occasione, come adesso. Eppure ho fortissimo il senso che dovrebbe pur darsi finalmente un evento emblematico che permetta al denaro di riconoscere in me la sua padrona. Le tasche dei miei amici, e anche le mie, ho portato un cappotto che ne ha diverse e spaziose. Sono zeppe fino all'orlo di banconote che non accennano a diminuire. E qualche volta sembra quasi che mi dicano con un ghigno beffardo, prova a spenderci se ne sei capace. È un modo di viaggiare questo disperatamente a buon mercato, e poiché, come ti dicevo, il capitano è un tipo cocciuto, non posso neanche comprarmi le mucche. Abbiamo fatto di tutto per introdurre a bordo un certo sfoggio mondano, ma ci siamo riuscite solo a metà. Ci cambiamo d'abito per andare a tavola, gli uomini sono sempre in smoking. Ma oltre a non costare nulla, è una cosa lievemente fuori posto. Già solo per il fatto che siamo partiti con loro, gli uomini dell'equipaggio ci considerano dei mentecatti. Normalmente il piroscafo non ospita passeggeri di prima classe, e noi per loro siamo soltanto un peso, dato che preferirebbero conservare nelle cabine le scorte di viveri. Ne succedono nella vita di cose strane. Appena sei uscita da una clinica per malattie nervose, subito tutti ti prendono per pazza. Comunque dobbiamo adattarci alle regole della vita di bordo, per esempio pranzare alle 10 del mattino e cenare alle 5 del pomeriggio. Non vengono mai serviti pasti fuori orario, insomma ce la passiamo più o meno come quell'arabo affamato che nel deserto trovò un sacco pieno di perle. Il povero Gottfried, per esempio, ancora non ha un cappotto, perché a suo tempo nella fretta non aveva trovato nulla che gli stesse bene, e così o trema pietosamente dal freddo, o è costretto ad avvolgersi in una coperta di lana che si trova sul ponte. Finita la cena ci mettiamo a telegrafare. Nel nostro piroscafo l'impianto radiotelegrafico è l'unico oggetto di lusso. 22. Montecarlo, mi sono arrivate qui due delle tue lettere e ti prego non essere arrabbiata se non ti ho risposto. Penso che almeno un paio di telegrammi tu debba comunque averli ricevuti. Non siamo affondati tutti quanti come ci si poteva aspettare, anzi, un bel giorno siamo approdati a Barcellona ed eravamo ancora a bordo quando le mucche sono state sbarcate. Tutti gli uomini dell'equipaggio alla fine si interessavano solamente delle mucche e noi pure, in verità, non pensavamo ad altro. Insomma, è quasi diventato un nuovo complesso. Ma poi, gettando letteralmente a mare ogni idea di continuare quel viaggio, siamo rimasti a Barcellona solo il tempo di far colazione e abbiamo preso il primo treno diretto a Monte Carlo. L'idea di venirci è stata come un'improvvisa illuminazione e il viaggio si è svolto senza alcuni incidenti. Non ci sono stati scioperi, né deragliamenti, né incendi di alberghi. Ah, qui sono felice, Maria, completamente felice. Non ho niente da desiderare. Mi sembra di aver trovato la mia patria, con tutti gli annessi e connessi. Nell'albergo non si abita, si esiste e basta. E al tavolo da gioco il passato, il futuro, il presente svaniscono. E così ogni angoscia e pensiero. Mi rendo conto, infatti, che il gioco non mi eccita affatto, ma anzi mi placa. Vedo il denaro, sento il denaro, percepisco il denaro. Ed è questa, precisamente, la cosa di cui avevo bisogno. Il denaro che ora mi appartiene, tra un momento non è più mio, rotola lontano, ma poi di nuovo è sospinto davanti a me. Il denaro è costretto alla passività, non può permettersi alcun capriccio e deve anzi assoggettarsi ai capricci della roulette. Io lo tiranneggio, poiché tutto è in mio potere, giocare o smettere, puntare alto o basso. Tra l'altro giochiamo solo Harry ed io. Gottfried non è ancora maggiorenne e quindi non ha il permesso di entrare nel casino. E Bauman si aggira da un tavolo all'altro raccogliendo materiale per una dissertazione sui complessi del denaro. Il mio complesso, sostiene, ha raggiunto solo adesso il suo apice. Ma a me di tutto questo non importa più niente. Riprenderò domani la mia lettera. Ho intenzione di star via per un giorno. Gli altri vogliono fare una gita e per amor di pace ci vado anch'io. A che scopo? Ma di bei paesaggi e simili se ne trovano dappertutto. In un posto come questo io desidero solamente respirare il denaro. E poi è proprio ora che mi occupi del palto di Gottfried, il quale sostiene che simili acquisti non è capace di farli da solo. Già l'altro giorno è stato preso per un suicida da qualcuno che lo ha visto aggirarsi furtivamente nel parco, tutto infreddolito. La settimana scorsa avevamo vinto una somma enorme, ma negli ultimi giorni abbiamo perso in misura altrettanto grave ed io per sicurezza ho mandato un telegramma al melanconico direttore della banca e ora che mi faccia avere infatti il conto del denaro che gli è arrivato. 23. È successo l'altro ieri. La gita è stata molto gradevole, ma ancora una volta non abbiamo comprato il cappotto. Più passa il tempo, più mi dà sui nervi questo cappotto. In fondo quel Gottfried avremmo fatto meglio a lasciarlo a casa. Stamane di buon'ora sedevamo ignari al tavolo della colazione e anzi avevamo una gran voglia di continuare a mangiare con rinnovata energia. Per Harry erano arrivate un mucchio di lettere. Egli aveva intenzione di mettersele in tasca senza neanche guardarle, ma io, come una sciocca, ho insistito perché le aprisse. Già la prima lettera conteneva una notizia sgradevole e cioè che l'affare immobiliare sta vacillando. Il professore ha ritirato la sua quota. Con un tuffo al cuore mi è venuto in mente che ancora non ho pagato il conto della clinica e che forse il professore sta preparando la sua vendetta. Semplicemente allora non me l'ero sentita di rimettermi subito a pagra conti a occuparmi di creditori. Harry aveva una faccia preoccupata e non voleva saperne di aprire le altre lettere, ma io lo pregai di leggerne almeno una, quella di Lucas. Egli ha consentì e il suo volto si fece ancora più scuro. Chissà che diavolo vuole! Lucas, mi prega di dirti che devi tornare indietro immediatamente. Abbiamo formulato diverse ipotesi sul significato di quella richiesta, che davvero sia una vendetta del professore per il conto che non gli ho pagato. Lucas menziona altresì l'affare immobiliare e sembra veramente su tutte le furie che in nostra assenza abbia messo in piedi una speculazione per conto suo e ora non sappia come venirne a capo senza il nostro aiuto. O forse è soltanto affettuosamente in ansia per la nostra sorte e vuole tirarci fuori dall'inferno delle sale da gioco. O magari invece il mio coerede ha provocato una sciagura, per esempio ha dato fuoco alla città. Non mi è chiaro che cosa io personalmente potrei fare di utile in nessuna di queste circostanze. Troncare tutto proprio adesso. Proprio adesso che la mia relazione con la legittima sta diventando così cordiale. Già più di una volta il denaro si è comportato infatti come se mi volesse bene e desiderasse rimanere con me, non a caso è tornato di continuo anche quando nel puntare abbiamo agito da sventati. Solo negli ultimissimi giorni è già abbastanza doloroso che Harry voglia partire. Io comunque ho deciso di restare. Che la società immobiliare vacilli pure e non mi importa se il mio coerede mette tutto a suo quadro. E quanto al professore, tanto col denaro sistemerò ogni cosa, per esempio pagando i conti, appoggiando finanziariamente la società immobiliare, eccetera, eccetera. Post scriptum, Harry è partito e continua a telegrafarmi come un pazzo che lo raggiunga immediatamente. Quindi dovrei di nuovo scrivermi al vecchio indirizzo, clinica per malattie nervose e via dicendo. È un posto che davvero non avrei creduto di rivedere mai più. 24 Veramente Maria, non so come raccontarti quello che è successo in maniera che tu non lo prenda per una stupida barzelletta. E in effetti lo è, però non sono io che l'ho inventata, è opera del destino. Stammi a sentire, la banca è fallita. La banca è fallita, sì, proprio la nostra banca. Ci eravamo figurati ogni sorta di cose riguardo a quello che poteva essere accaduto, ma un pensiero così assurdo. Non era venuto in mente a nessuna di noi. Adesso capiamo anche come mai il direttore della banca fosse sempre così melanconico e avesse tanta voglia di viaggiare e che non ci abbia più mandato né soldi né rendiconti e che il denaro durante il viaggio si sia talvolta comportato in maniera così sfottente. Lui, il denaro, aveva tutto previsto, di questo sono sicura. Tu mi domanderai qual è la mia reazione di fronte a questo evento. Sai, non lo so ancora. Mi ha stupito, certo, e avrei preferito che non fosse successo, ma per ora non ho voglia di rifletterci su. Al momento mi è sembrato di essere al cinema e lo sai anche tu, che quando la vita è come un film, in fondo ci si diverte abbastanza. E poi eravamo ancora talmente pregni dell'atmosfera finanziaria di Monte Carlo che il suo festoso barbaglio si è riverberato anche su quelle prime ore così tetre. Lucas mi ha accolto, come è naturale, con una faccia tragica e con alcuni commenti assai severi riguardanti il nostro ultimo soggiorno a Monte Carlo. Beh, lo irrita moltissimo che mentre noi stavamo lì a giocare e a divertirci, qui andava in fumo l'ultima speranza di un avvenire sicuro. E così è ricominciato il nostro vecchio litigio. Non sarebbe bastato lo stesso. Sarebbe bastato invece se solo lei avesse pensato a un vitalizio. No, c'è interrotto Harry, piuttosto dovevi subito acquistare una quota della miniera d'oro. Già, è naturale, per dover poi far fuori quel signor al Ramseder. Non ce n'è più bisogno, ormai al Ramseder è uscito definitivamente dall'affare, ha replicato Harry con voce solenne. E poi finalmente ho ripreso io la parola per triunfare su Lucas e stenderlo del tutto. Se solo lei, Lucas, avesse mandato un telegramma anziché scrivere quella lettera incomprensibile, avremmo certo potuto riparare al danno. La colpa è sua, solamente sua, se oggi mi ritrovo senza base economica. È vero, fa Harry. E Lucas resta un attimo senza parola. La colpa è mia? Certo, perché tre giorni prima avevamo vinto delle somme enormi, cifre da capogiro, glielo assicuro. E se avessimo smesso in quel momento, o magari fossimo rimasti ancora per continuare a giocare, intervenne Harry. Ma Lucas dichiara, a questo punto con la massima risolutezza, che vuole partire domani, perché proprio non ce la fa più a vivere sotto lo stesso tetto con noi e a sentire quante mai cose avremmo, tra virgolette, potuto fare. Bauman, invece, beh, lui medita di festeggiare l'evento con vere e proprie orge analitiche. Poi sono andata a cercare il mio coerede. Era seduto davanti all'albergo con una bottiglia di vino rosso. Non ha manifestato la minima sorpresa nel vedermi lì. E quando mi ha guardato in faccia sembrava piuttosto turbato. Siamo rimasti seduti in silenzio una buona mezz'ora e poi mi ha raccontato che l'altro ieri è morto improvvisamente il suo cane lupo. Ha il forte sospetto che la bestia sia stata avvelenata e ha messo a disposizione una cospicua somma destinata a colui che troverà il colpevole, sicché tutti i poliziotti della città si sono già messi alacremente al lavoro. Poi è arrivata la sua automobile, vi ha fatto deporre il cane morto ed è partito alla volta della città più vicina per appurare, mediante autopsia, quale sia stata la causa del decesso. È uscito in strada, il proprietario dell'albergo mi ha stretto la mano con commozione. Si dice che costui sia l'unico in città che il fallimento della banca non ha mandato in rovina. Mi ha raccontato di aver saputo che il defunto cane in realtà non sarebbe un cane, bensì un lupo addomesticato che un qualche scavezza collo ha rubato da un giardino zoologico per poi venderlo al mio signor marito. Se questa storia sia vera o se invece appartenga ai pittoreschi miti che qui ci vengono continuamente propinati è una questione che preferisco lasciare in sospeso. Devo ammettere che niente ormai riesce più a stupirmi. Il giorno dopo verso sera è tornato il mio consorte ed era un po' deluso in quanto vari autorevolissimi veterinari avevano decretato che il suo cane era morto di morte naturale. Sia perciò sospesa la ricerca dell'assassino e forse il proprietario dell'albergo avrà tratto un sospiro di sollievo. Poi, arrabbiatissimo, il mio consorte è ripartito per una destinazione che è rimasta ignota. Ci siamo congedati affettosamente anche se con poche parole e solo il cielo sa se in questa vita le nostre strade si incroceranno ancora o se invece rimarranno separate per sempre. È probabile che egli sappia altresì come andrà a finire questa vicenda. Io, personalmente, non ne ho la minima idea. 25. Grazie di cuore per la tua lettera e per la tua partecipazione. Non devi preoccuparti troppo, tutto sommato sto abbastanza bene. La nostra vita, come ovvio, si svolge qui sotto il segno della bancarotta, il che non manca di un certo charme. Anche Harry è stato duramente colpito, poiché la società immobiliare è saltata per aree in coincidenza col fallimento della banca. Passa ancora molto tempo a contare, ma è assai fiducioso che proprio da questo fallimento possano nascere nuove opportunità e iniziative di cui egli vorrebbe essere il promotore. In ogni caso, noi restiamo qui. Più passa il tempo e più abbiamo la sensazione di essere tutt'uno con questo posto. Tra la gente del popolo l'umore è cupo ed è citato insieme. Non passa giorno senza che arrivi una nuova infausta notizia di imprese che falliscono o di ispettori della banca che, avendo tradito, se la sono squagliata oppure ancora si sono tirati in gran fretta un colpo di pistola e di azionisti ridotti in miserie e così via dicendo. Si solidarizza con le altre vittime di questo fallimento e si è costantemente attorniati da gente che parla di ipoteche, di prezzi dei suoli, di azioni, di valori in depositi rubati e di titoli sicuri o rischiosi. L'atmosfera nel suo insieme ha un tocco capitalistico, quanto mai rasserenante. La nostra popolarità è diventata enorme e poiché sopportiamo le nostre perdite con grande dignità e godiamo di un credito illimitato, la gente ci prende almeno per milionari. Perciò ce la passiamo abbastanza bene. Lucas non è più qui e Bauman continua a sperare di poter un giorno seguitare l'analisi con me, ma io sono convinta di non averne più bisogno poiché il mio complesso del denaro, adesso appartengo io stessa alla categoria dei creditori, quelli della banca che è fallita naturalmente e questo mi fa guardare il denaro da un punto di vista totalmente diverso. Chissà che malgrado tutto il denaro non impari a rispettarmi come appunto rispetta soltanto i creditori e chissà che non ritorni in quella stessa inverosimile maniera in cui si è congedato. Beh, addio. Devo accompagnare Gottfried dal sarto. È un danno per la mia reputazione, nel fatto che gli continui tuttora ad andare in giro senza soprabito e alle quattro ho un'assemblea di creditori. Fine.